Parliamo ora di podismo, mercoledì scorso, primo maggio, si è svolta la gara 6-8 ore città di teate, giunta alla terza edizione. Eccole qui alcune immagini, omologata CSI, Centro Sportivo Italiano di Chieti, organizzata dal Marathon Club Manopello Sogeda, col patrocinio del Comune di Chieti e la compartecipazione dell'Avis Comunale Chieti. Location dell'emozionante evento, la suggestiva cornice della Villa Comunale, grande successo dal punto di vista organizzativo e tecnico per l'abbinamento con il prestigioso 22esimo Grand Prix Utah 2024 di ultramaratona e con l'undicesimo criterium regionale fascia centro e centro-sud. Tra i principali protagonisti, nella 8 ore, Luca Felice, Podistica San Salvo e Virgilia Nanni, Manopello Sogeda. Simone Fantini, ASD Lupi d'Abruzzo e Patrizia Pricci, amatori putignano, nella 6 ore. Parallelamente alle due gare si è svolta la 21 km con l'affermazione al maschile di Giuseppe Piegari, atletica nolana, e di Sara Basciano, runner schieti tra le donne. Molto soddisfatti i dirigenti del Marathon Club Manopello Sogeda, grazie, un gran colpo d'occhio, naturalmente grazie al continuo andirivieni di podisti che hanno percorso più volte il circuito di circa un chilometro.